Il campionato più Coppa Viola si presenta per l'esordio in questo campionato con il Catania a testa alta e persa la pazienza e stufo del tire molla alza la voce e dice basta al serbo Gli Aic o con noi o via subito. La Roma attende a braccia aperte la decisione, questione di ore, l'ultimatum scade domani, Gomez e Rossi formeranno la coppia d'attacco, Sorrisi anche da Pizarro che ha risposto presente alla convocazione per Montella è fondamentale se all'ultimo secondo il Cileno non dovesse farcela, squalificato Ambrosini pronto a scaldare i motori, Matti Fernandez con Borca Valero o Aquilani in regia. Il Catania, chiuso il campionato all'ottavo posto, lascia da parte i timori reverenziali del passato. Nei confronti dell'ex allenatore, dimenticata la scoppola dell'anno scorso, Maran non più un esordiente, chiede ai suoi di continuare nella linea del sacrificio. Assente al Mironi, il 4-2-3-1 provato in campionato, vedrà Izco e Taxidis in mediana con viaggianti, cala perigie pronte, accomodato in panchina vicino a Maxi Lopez. Davanti ci sarà Bergessio che tra gli stimatori una voce mette alla Fiorentina proprio in prima fila. Grazie a tutti.